Un brindisi per festeggiare, l'anno appena iniziato. Un anno che veda Napoli al centro, ad organizzarlo nella Sala del Vasari, che pochi mesi fa vide un importante accordo tra banche, chiesa, società civile, istituzioni e imprenditori piccoli e grandi della città, è stata la BCC di Napoli. Il presidente Amedeo Manzo ha deciso di regalare per l'occasione un concerto per pianoforte a quattro mani, tenuto da Sabrina Dente e Anna Maria Garibaldi, del duo MacLei. Una serata tra le melodie di Brahms, Rachmaninoff, Piazzolla e Gershwin, quella offerta dalle due pianiste che ai nostri microfoni hanno sottolineato. È meraviglioso poter stare in un posto del genere, ispirarsi alle opere del Vasari e riuscire a trasformare l'arte che ci circonda in suoni. È quello che abbiamo cercato di fare questa sera grazie anche al calore delle persone e del pubblico presente, un'organizzazione impeccabile, una Napoli attenta a queste manifestazioni che ci ha trasmesso il suo calore. Molti colleghi pianisti non abano la formazione del duo pianistico per anche una questione di troppa vicinanza che si ha tra i due pianisti. Invece nel nostro caso è un punto di forza perché abbiamo due tecniche, due carismi totalmente diversi e la complementarietà tra questi due carismi ci permette appunto di essere versatili nella ricerca stilistica, quindi di poter appunto passare da un Brahms a un Rachmaninoff a un Piazzolla con facilità. Insomma un 2017 che per Napoli deve essere l'anno della conferma ma anche il trampolino di lancio verso nuovi traguardi, così il presidente Manzo ha i nostri microfoni. È un grande 2017 caratterizzato da tre elementi che vogliamo simboleggiare, innanzitutto il luogo, la sala del Vasari è espressione della nostra storia, della nostra tradizione, poi con gli autori, due artisti straordinari e il terzo punto è naturalmente un pubblico, un pubblico di amici del credito cooperativo scelti non secondo un criterio di carattere come fanno magari grandi gruppi in base al proprio portafoglio ma secondo dei criteri di comune denominatore, di amore per la propria città, di vicinanza verso la banca e il desiderio soprattutto di fare cose buone per il 2017 che è l'augurio col quale noi accogliamo questa serata e invitiamo tutti i nostri soci.